Questa nuova Evo è sbroccata totalmente, questi sono i requisiti e ti dà praticamente il ruolo ATT e delle stats super ultra mega boostate di tiro più due playstyle della capocciata e si può creare per la prima volta un giocatore con doppio playstyle dell'Aerol e della capocciata potente. Questa è una Evo che io ti consiglio di fare su un centrocampista o comunque non un difensore centrale perché altrimenti vai a perdere quelle statistiche di tiro e comunque dà anche il ruolo ATT e ti può dare una mano anche con le ibridazioni. In più questa evoluzione ti dà più uno di piede debole quindi se vai a mettere un 2 piede debole o un 3 piede debole ci potrebbe anche stare l'ideale sarebbe quello di mettere i 4 piede debole per farli diventare buoni o addirittura già i 4 stelle skill che poi hanno 3 piede debole per farli diventare 4-4, 4-5 e così via. Prima di andare a vedere quali sono i migliori giocatori ti ricordo di lasciare un bel like, iscriverti al canale, salvare il video e mandarlo a un tuo amico. Come sempre te le do dal peggiore al migliore e ci tengo a sottolineare che questa Evo dura 20 giorni quindi non avere fretta, questa bene amata fretta, di mettere i giocatori adesso perché tra 20 giorni potremmo avere delle combo gigantesche incredibili considerando che tra poco arrivano anche i Tots. Il peggiore secondo me è Alaba If, praticamente è inutile dargli questi due playstyle e quelle stats di tiro perché questo Alaba è una card prettamente difensiva ma è comunque una valida alternativa a centrocampo. Stessa cosa per Tamese, tra l'altro è anche estinto, la card è anche interessante ma questa è una card prettamente difensiva, il passaggio è anche abbastanza scarso e ha pochi playstyle in generale. Rabio Base diventa un buon centrocampista di Serie A, consigliato se ti fate Juventus e o se vi piace il giocatore, peccato per quelle stats di agilità ed equilibrio e la velocità ma è una card comunque tendenzialmente abbastanza completa. De Marcos è uno dei terzini più completi di Liga Destri, se avete ancora bisogno di un terzino destro nella Liga Spagnola sicuramente è una card che vi può dare solidità, body type incredibile con i due playstyle, prende tutti i palloni di testa, c'ha anche il razzetto, buoni playstyle anche di difesa quindi è una card sicuramente valida. Uno dei migliori centrocampisti, lo metto a questo punto del video perché è di Bundesliga, sapete che la Bundesliga non è proprio il migliore dei campionati a livello di ibridazione, è questo Goretzka 3-5, la card Bird Day è qualcosa di abominevole in campo per quanto è forte, purtroppo questo è solo 3-5 ma è una card che in game sta da tutte le parti, veramente forte. Poi abbiamo Cancelo Base, per quanto non sia il miglior giocatore a cui dare questi playstyle plus è comunque Cancelo in game, diventa 4-5 alto basso, è sicuramente una buona base per magari potenziali evo nei prossimi due mesi più o meno. E poi arriviamo alla top 3, dove c'è Chessi Radioattivo, attenzione perché facendo questa evoluzione perde la sua radioattività e quindi l'intesa massima, ma è una card che non ti posso non consigliare da usare ovviamente come CC offensivo, attenzione sempre a quella giurità e al fatto che lui comunque risulta molto pesante, ma 3-5 alto alto con queste stats dispara anche le cannonate da fuori area, sicuramente una card da tenere in considerazione nonostante le stats basse di passaggio. Top 2 ce l'abbiamo per Cap De Vila Base Hero che probabilmente andrà estinto, super terzino completo, non ha bisogno di presentazioni, difende, attacca, volendo c'è anche 99 di long shot e potenza tiro che magari dispare bomboni da fuori area, attenzione a quell'agilità ed equilibrio. Il primo gradino del podio se lo prende Tonali che è molto raro nei pacchetti, ma se ce l'avete io lo conserverei gelosamente prima di fare questa evoluzione, ma sicuramente è il migliore perché è quello probabilmente più completo. I playstyle che gli dà sono ottimi, tra l'altro anche il razzetto base, attenzione al 79 di effetto, ma è una card sicuramente valida per essere una Evo gratis. Tu che evolvi? Scrivimi nei commenti.